Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi, qui ti parlo del concetto di cui ti ho parlato tante volte, è il concetto di mettere sempre nuove idee a quello che fai, sempre aggiungi, sempre aggiungi, sempre aggiungi, sempre aggiungi, facendo sempre, diciamo, in modo esatto, non davanti per un termine e aggiungendo sempre, tipo concetto di consonanza e dissonanza, il concetto di consonanza portava come il concetto di amore, il concetto di serenità, di pace, di tranquillità, di alleluia, il concetto di dissonanza come rabbia, costituzione, tutto quello che non riesce a controllare, di tensione, pensa ad avere questi due poli e a metterci proprio tutte le dimensioni e emozioni possibili che vanno nella direzione di questi due poli, appunto, posso lanciare ammonia, posso essere tristezza, posso essere alleluia, in dissonanza invece tensione, filmi bruttani, se non dà l'idea della rabbia, della tensione di cosa che ti possa succedere, ciao a prossimo video!